8.500 uomini tra soldati e altre forze specializzate contro Boko Haram. In un vertice nella capitale camerunense Yaoundé, la Nigeria ha incassato l'appoggio dei suoi vicini Camerun, Chad, Niger e Benin per tentare di sconfiggere gli estremisti islamici. In strada la popolazione a sostegno delle truppe. Tutta la regione di Yaoundé, tutta la gente del Camerun dice no a Boko Haram. Siamo per la pace e l'unità nazionale, diciamo no, no, no a Boko Haram. Nei cinque paesi confinanti dell'Africa centrale c'è la consapevolezza che il problema riguarda ormai l'intera area. Dalle deliberazioni risulta che si è convenuto sull'urgenza di dover schierare dei militari. Ce n'è bisogno per affrontare il flagello di Boko Haram. Queste sono le attuali disposizioni. I contingenti saranno resi disponibili al più presto. Alcuni sono già sul campo. La Nigeria è la più colpita dal gruppo jihadista, ma l'ultimo massacro è avvenuto tra mercoledì e giovedì nel villaggio camerunense di Fotocol, dove sono state uccise 100 persone.